Ho fatto con un filtro microperforato sopra la blocchi sonni e aggiunta una lente pleniforme. Vi saluto. Una famiglia di versione francese. Una. 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 buzz. ovviamente al sistema nhk di visione autostoroscopica che è stato un po' di g forno e di g forno a capo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.